Allora, ben ritrovati. Questa immagine rappresenta le anomalie di precipitazioni in Europa negli ultimi 40 giorni. In blu e in viola sono le anomalie di precipitazioni positive, laddove ha piovuto di più, mentre in giallo e rosso sono quelle dove è piovuto di meno. E allora possiamo vedere questo dipolo di precipitazioni che interessa l'Europa, che poi segue a ruota il dipolo di pressione, e notate come le regioni settentrionali unitamente all'Europa occidentale sono quelle che sono state interessate maggiormente dalle perturbazioni che hanno portato anche delle ondate di maltempo. Le regioni del sud Italia e soprattutto l'Europa di sud-est è stata invece interessata da queste ondate di caldo di natura nord-africana. Prosegue dunque il clima secco al sud, a parte qualche episodio di precipitazione, in particolare sulla Sicilia, la Calabria, ma diverse zone del Mediterraneo sono ancora interessate da questa siccità. Questo è lo schema circolatore degli ultimi 40 giorni. Abbiamo, notate, questo anticiclone è molto forte della zona, è un pochettino più spostato verso nord-ovest. Questa saccatura che penetra nel cuore dell'Europa impatta con l'anticiclone sub-tropicale che invece interessa l'Europa orientale e anche le regioni, parte delle regioni italiane. Nella zona di contrasto c'è questo canale, possiamo dire, di aria instabile che pennella il nord Italia, portando queste precipitazioni anche temporalesche che hanno appunto interessato la prima parte di questa stagione estiva. Nel momento in cui vi parlo, precipitazioni temporalesche stanno interessando il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Lombardia, fenomeni anche di forte intensità. Questo schema poi è anche in parte una conseguenza di quanto ci ha lasciato il riscaldamento stratosferico di Primavera, un riscaldamento che ha prodotto un fronte polare più basso e questo ha, possiamo dire, aiutato queste perturbazioni a raggiungere con facilità l'Italia, soprattutto le regioni settentrionali. Continua invece il clima molto caldo, invece nel sud-est Europa, che sono le zone maggiormente coinvolte da masse d'aria molto calda e secca di natura subito tropicale, tra Macedonia e Grecia, sono state raggiunte anche temperature di 42-45 gradi. Mese di giugno, secondo i dati ISAC e CNR, sul campo delle temperature il mese è stato, possiamo dire, caldo per quanto riguarda le regioni sud Italia e anche parte del centro, mentre possiamo dire che da Firenze in su hanno prevalso le anomalie negative, frutto della copertura nuvolosa e anche delle precipitazioni che hanno riguardato, come detto prima, le regioni settentrionali. Non è un mese molto caldo, non è dal record, è il nono mese più caldo per quanto riguarda l'Italia, su tutte le misurazioni fatte per quanto riguarda i mesi di giugno, mentre a livello globale registriamo invece il tredicesimo mese consecutivo con temperature da record. Probabilmente il mese di luglio potrebbe essere il primo mese non da record, quindi potrebbe interrompersi questa lunga sequenza da caldo record a livello globale. Queste le zone di convergenza intertropicale. In rosso è la situazione, possiamo dire, degli ultimi giorni. Vedete come questa zona di convergenza intertropicale si è spostata più a nord, e questo ovviamente risponde anche a delle teleconnessioni, in particolare al monzone africano, ma può essere anche la conseguenza della circolazione nordatlantica. Comunque, tuttavia, registriamo questo aumento di questa zona di convergenza intertropicale che sta portando, contribuendo anche a portare, l'ondate di caldo sul bacino del Mediterraneo. L'ITGZ è correlato spesso alle ondate di caldo, ma questo non vuol dire che sia la causa-effetto, perché l'ITGZ più alto è generalmente conseguenza di qualche teleconnessione che sia avviata da qualche parte, anche su zone remote. È possibile che questa ondate di caldo che sta attualmente interessando l'Europa medionale sia la conseguenza di una teleconnessione che sia attuata, diciamo, sul nordatlantico, in particolare sull'Atlantico, in particolare sull'Atlantico tropicale. Queste teleconnessioni non fanno altro che attivare delle onde di Rosby che poi vanno a generare anche delle situazioni bloccate da qualche parte dell'emisfero nord. Quindi un'onda di Rosby che si è mossa in maniera, possiamo dire, che ha inciso in maniera costante su un determinato schema circolatorio, unitamente all'aumento dell'ITGZ, può anche generare delle ondate di caldo piuttosto prolungate, proprio come quella che ci sta interessando in questi giorni. Sono soprattutto le regioni del centro-sud maggiormente interessate dalle temperature al di sopra della media climatologica, sono valori piuttosto insoliti o anche addirittura estremi per quanto riguarda l'Europa orientale, in particolare tra la Bulgaria, la Romania, la Macedonia, ma anche la Grecia, zone che nel corso dei prossimi giorni potrebbero essere interessate da valori, da temperatura record. Quindi è uno schema di circolazione che continua ancora a prevalere, conseguenza anche di questo innalzamento della fascia anticiclonica sub-tropicale. Masse d'aria calda che appunto provengono dal Nord Africa, ma non vengono proprio dalla, possiamo dire, la zona continentale del Nord Africa, sono più spostate verso la Mauritania, preprescono anche dell'area piuttosto umida. e notate come c'è tutto questo fascio che mostra da un punto di vista lagrangiano la provenienza delle masse d'aria, mostra anche questo andamento orario, quindi assume la caratteristica anticiclonica, e notate come tutte le masse d'aria poi tendono a scendere verso il basso, quindi oltre al caldo dovuto all'avvezione di masse d'aria calda, c'è anche il caldo generato dallo schiacciamento verso il basso, dai moti di compressione proprio dell'anticiclone sub-tropicale che interessa il bacino del Mediterraneo. Quanto durerà? Diciamo che fino al 20 di luglio dovremmo ancora attenderci temperature molto di sopra della media tipica del periodo, in particolare al centro-sud, ma anche il nord Italia vedrà un aumento dopo il calo di questo fine settimana, e poi dal 20 in poi si aprirebbe una finestra per una possibilità di un'attenuazione di questa prolungata ondata di caldo. Ovviamente sono delle ipotesi che ancora andranno confermate. Maggiori dettagli su trebimetro.com